Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Una settimana importante è quella che sta per iniziare in Casa Teramo. L'udienza di questa mattina davanti al Tribunale di Roma sulle misure preventive che mesi fa hanno portato al sequestro dei beni del gruppo Ciaccia è stata un'udienza interlocutoria al fine di valutare le difese e gli eventuali ulteriori approfondimenti del pubblico ministero ma non è stato deciso nulla in questa udienza di definitivo sulla revoca delle misure patrimoniali dei Ciaccia. Non si è trattato di un riesame delle misure preventive e dunque di un'udienza definitiva ma di un'udienza dibattimentale tra le parti e ce ne saranno delle altre, ma nulla è stato deciso. Si continua invece a lavorare sul Teramo per cercare di svincolarlo come è stato fatto per altre società nel recente passato per esempio al Fiuggi, alla Ternana nel 2017 a cui erano state applicate misure preventive e poi le stesse hanno avuto lo sblocco delle quote societarie. Questa circostanza ci è stata confermata telefonicamente ieri sera dal patron Davide Ciaccia il quale ci ha tenuto a sottolineare che si sta lavorando per un dissequestro singolo delle quote del Teramo. Il futuro del diavolo potrebbe però passare per l'assemblea dei soci della SS Teramo Calcio che è stata convocata per il giorno 6 giugno 2022 alle ore 15 in Roma per discutere e deliberare su alcune questioni all'ordine del giorno. Se dovesse perdurare l'attuale situazione il futuro diventerebbe preoccupante soprattutto sotto l'aspetto della operatività della società. Con la nomina di nuove cariche sociali si potrebbe ipotizzare la figura dell'imprenditore Giuseppe Spinelli che fungerebbe da sponsor e poi successivamente potrebbe subentrare nei quadri societari. Resta l'interesse di un imprenditore di fuori regione che non cerca visibilità il cui nominativo al momento rimane sconosciuto ma che probabilmente sta già operando e presto potrebbe compiere il grande passo.